Lo sentavo che a casa mi ha fatto tutti i piatti di dentro, tra l'avvocato, ma faria che casa, ma forte, forte, proprio forte, forte, forte. Io ho inteso come casa si alzava un momento e poi vi chiede la credenza che suonava, ma brutto, brutto, che madonna! Tutto sto coso dei bicchieri, ho abbiato un momento e poi si è fermato. Comunque è stata una cosa, l'abbiamo sentito abbastanza forte.